buon pomeriggio e buon pranzo cari amici fan dal vostro nicole de lucia ebbene il nostro caro caruso tenista con nazionale ci ha provato in tutti i modi e quasi in due ore ma non ha potuto nulla contro veseli che ha perso per 2 7 a 0 in un'ora e 52 minuti perdendo il primo set 76 75 secondo 64 il primo set è stato molto lungo un'ora e otto minuti secondo 44 vittoria di veseli quotata tra 1 e 61 1 65 1 e 71 e quindi eventuale derby italiano salta travaglia la partita le 14 e 30 circa scongiurando eventuali ritardi per altre parti quindi ribadiamo il nostro dennista con nazionale caruso si impegna mette in serie difficoltà veseli ma non ce la fa e perde 2 a 0 nel torneo di tennis atp più in india arriveranno oggi almeno altri due video altri due spero di non farne altre ancora perché sennò qua tutti i giorni comunque buon proseguimento di giornata forza caruso